Bella a tutti ragazzoni e benvenuti in questo nuovo video con il nostro Livorno, signori, su PS4, nella moneta Master League Signori, allora, nello scorso video abbiamo pareggiato, sono ricordato male, 0-0 contro il Ren No, non è il Ren, lo scorso, lo scorso video, che cazzo era con cui abbiamo pareggiato nello scorso video? Non mi ricordo, signori, con qualcuno abbiamo pareggiato e questo non fa bene la nostra classifica Perché in questo momento siamo sempre terzi in classifica Abbiamo svolto il mercato e sono arrivati due giocatori che dovrebbero promettere bene Uno è, sono nominato Gas Gas, che è uno non Gas, lo chiameremo Gas Gas per gli amici E l'altro, e vediamo se questa volta è disponibile, sì, Utaka, signori, Utaka, che è un buon attaccante Diciamo, 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 deve ancora dimostrare molto in campo Vediamo un attimino come si comporta Lo mettiamo a posto di Lucarelli, che è abbastanza lento, è abbastanza vecchio Quindi ce lo giochiamo lì Giochiamo contro il Mainz, signori, ok? Partita con la quale dobbiamo vincere per forza Prima di partire con l'episodio vi ringrazio per like, per i commenti presenti e per il supporto Vi ricordo sempre di iscrivervi al canale Detto questo, signori, siamo pronti a scendere in campo E ricordiamo che dobbiamo portarci tre punti fondamentali a casa Perché l'obiettivo è, quantomeno, ottenere la promozione Per ottenere, quantomeno, il secondo posto Vediamo un attimino la classifica Il Mainz è penultimo a sei punti Noi siamo terzi a quindici, ha un punto da Renna E il Sevilla, se ne è già andato, signori, il Sevilla ce lo siamo già giocati Quindi va bene Utaka, sei tutti noi, Utaka mio Dimostra, dimostra che sei stato un buon acquisto per questo Livorno, signori Abbiamo bisogno dei tuoi gol Dei tuoi gol e della tua velocità, Utaka mio Subito, così, bravissimo Bravissimo, Utaka Guarda Ceramitaro Va bene, va bene, va bene, va bene Uno, due, velocissimo No, Ceramitaro, Ceramitaro ancora, cerca il tiro Manneggia, manneggia Manneggia Dove cazzo lo sta andando questo? Riusciamo a recuperare lo sto pallone? Grande ancora per Utaka Che sbaglio lo stop Utaka mio, hai un problema di stop Guardalo, guardalo Guarda, tu provaci Rigore No, non me l'ha dato Porca miseria Mi sono emozionato, signori Mi sono emozionato e ho perso un attimino la cognizione di quello che cazzo lo dovevo fare Stavo entrando bene in aria con Ceramitaro Perché lui mi deve sempre cambiare i pupini quando io non voglio aver cambiato il pupino Ceramitaro, ancora lui Ceramitaro, Ceramitaro, Ceramitaro Che è lento Cerca Utaka Che si gira bene Utaka, 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 Utaka Utaka, Utaka Decide di fermarsi Rientra, rientra Utaka Sì, il nostro Babangida Utaka, Utaka Ma come cazzo lo l'hai tirato? Utaka mio Ma che razza di tiro era? Boh Non lo so Gli è piaciuto fare questa cacata Invece di dare un tiro bello potente Ha fatto sto diretto stupido Che non è servito a niente Rossetti Rossetti sveglia Sveglia Rossetti Anche tu devi giocare meglio Rossè È grandissimo Qui l'anticipo Gas 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 Combatte Ma non riesce a tenere il pallone Gas gas Addirittura Che numero che gli hanno fatto Fuori sto pallone Bravissimo così Guarda C'è la C'è la C'è la Tienila Tienila C'è la mità Roppio attivo Ti voglio C'è la mità C'è la mità No Vagli sto pallone Grande l'anticipo Va di anticipo Va di anticipo Porca miseria Sta rompendo le scatole Va bene Va bene Va bene La teniamo lì La teniamo lì Rossetti 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 Prende tempo Rossetti Prende tempo Rossetti 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 Vede c'è la mità Con molta calma Il Livorno Cerca di costruire l'azione Gas 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 Cerca Bellissimo Il movimento Di Utaka Che però Non trova il tiro Bene Bravo Utaka Bravo Utaka Mi stai un attimino Iniziando a stressare Utaka Grande l'intervento Di Gas Gas Che però Dai dai Vagliela Dai Del tongo Tarara Del tongo mio Che però No Ma che cazzo L'ha stata a fare Tutti quanti lì Porca miseria Grandi Non era fallo Ma nella vita Abbiamo preso il pallone No abbiamo preso il pallone Io l'ho vista in porta Però va bene Però va bene Ok Zero a zero Fino il primo tempo Signore Io ho fatto un errore Che purtroppo ho messo Cinque minuti di partita Le partite durano troppo poco Durano troppo poco Le partite Neanche il tempo Un attino Di riprendere La familiarità Con i comandi Che Che già praticamente La partita è finita Dai 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 Non lo so Siamo quelli con la maglia granata Chi cazzarola è stato a fa stare Grande uno Grande Gas Gas Grande Gas Gas Che è selentissimo Utaka 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 Ci serve questa pallone Utaka mio Cazzarola di passaggio Grandissimo Unorgas Unorgas Gas Gas Si intramette Gli è passato di sopra Non lo vorrei dire Ma gli è passato di sopra Però va bene Riesce Grandissimo Giallombardo Grandissimo Intervento di Giallombardo Rossetti 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 Si ferma Rossetti Si ferma Rossetti Rossetti Mio Tre ore Per un passaggio Giallombardo 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 Vede il movimento di Ciaramitaro Ciaramitaro Che fa fuori il difensore Ciaram Annaggia Già siamo al 64esimo Va bene così Va bene così Del Tongo Non c'è Unorgas Rossetti Rossetti Si è fatto anticipare Ma Ciaramitaro Anticipa tutto Il recupero del pallone Unorgas Per Rossetti Che si gira Rossetti Dai cazzarola Però centriamola Sta porta Porca miseria Porca miseria Porca miseria Porca di una miseria Centriamola Sta porta Stiamo riuscendo A avere delle buone azioni E però Non centriamo la porta Signori Se non centriamo la porta Una Utaka Porca miseria Porca miseria Di chi è Passala alla sinistra Quindi la rimessa È nostra Giusto? Ok Ciaramitaro Ah Del Tongo Del Tongo Passala Rossetti Va bene No No Mannaggia 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 Grandissimo Anticipo di Vargas Per Utaka Utaka Che cerca unorgas 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 Che ricerca Utaka Che la stoppa Rigore Rigore signori Rigore calcio Di rigore per il Livorno Stavo a tirare Stavo a tirare Non ci rompete le scatole La stavo per tirare Lo stavo per fucilare Signori Lo stavo per fucilare Rossetti Rossetti Il tiro E il gol Livorno in vantaggio Con un rigore di Rossetti Sul Mainz Dai così Capitano Rossetti Perché capitano Rossetti Non si sa Però va bene La sblocca lui La sblocca lui Signori Dai così Super Rossetti Bello 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 Un par di ciufoli Perché è un rigore Però ce ne frega poco Signori Ce ne frega pochissimo Ce ne frega pochissimo Loro cambiano mezza squadra Siamo all'ottantacinquesimo Cortesemente La parola d'ordine Tenere Potrebbe essere decisivo Sì Sì Deve essere decisivo Signori Deve essere decisivo Siamo riusciti Dai Dai Tu ti immagini Ok Fuori sto primo pallone Fuori il secondo pallone Va bene Apri Un minuto di recupero Un orgasmo Un orgasmo È finita Dai così Dai così Livorno Battlemines 1-0 Si porta a casa Tre punti importanti Con un rigore Eh E vabbè Ci sono anche questi Nel calcio Signori Ci sono anche questi Ci siamo Ci sono anche questi Nel calcio Signori Quindi Il calcio Ce l'ha dato E noi ce lo teniamo Un rigore Che vale La vittoria Si non ho visto I risultati Delle altre partite Signori Che fondamentalmente Ora come ora Ci interessano Poco Dobbiamo semplicemente Pensare al nostro E andare avanti E andare avanti Ok Saliamo a 10.000 punti Questo è buono Oh I nostri giocatori Salgono Per se il sale Giallombardo Migliore in accelerazione Però Giallombardo Deltongo Migliore ma non troppo Ceramitaro Migliore ma non troppo Giambardoni Non c'ha proprio voglia Di migliorare Unorgas Gas gas sale Utaka sale Pochissimo Bene Rossetti Migliore in precisione Tiro Dai Rossetti Dai Rossetti Che io credo in te Cazzarola Rossetti mio La prossima è Coppa Attenzione La prossima partita Ce la giochiamo di Coppa Ed è un impegno importante Perché in Coppa Vogliamo e dobbiamo Andare avanti Signori Vogliamo e dobbiamo Che a stessi Per rendimento Piazzanetto Non ce ne frega niente Siamo a pochi punti Da poter pagare Gli stipendi Della squadra E questo non è male Signori Vediamo un attimino La classifica Informazione Classifica Siamo secondi Ok Ok Siamo secondi Con due punti di vantaggio Sul Ren E non è male Come cosa questa Non è male Non è male Perché ricordiamo Signori Dobbiamo quantomeno Riuscire a centrare La promozione E arrivare Almeno secondi Detto quei signori Io vi ringrazio Per questo video Vi ringrazio Per i like Per i commenti Per i genitori E per il supporto Noi ci vediamo Sempre qui sul canale Per un prossimo appuntamento Bella raga Ciao Ciao